Sì, si dice che hanno inventato quattro e viso. Sì, negli anni 50-60. Questo bisogna farlo delicatamente perché sennò questo si sgonfia. Sai? Questa qui la neve. Sì. Può sgonfiarsi, bisogna farlo dolcemente. Tipo proprio mescolando. Non lo sa puntare. È passino che la nonna diceva sempre... ... ... ... ... ... ... ... Spassino.